Ciao, benvenuto nel mio canale YouTube, ti raccomando se ne l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti così non ti perderai i prossimi video che farò su un post al sole ma anche su tanti altri argomenti. Nelle prossime puntate vedremo un Edoardo veramente cambiato e un Edoardo che prenderà una decisione molto molto importante e possiamo dire che ci sarà una bella svolta per quanto riguarda questo personaggio. Poco tempo fa il clan sabiese ha scoperto che Damiano faceva il doppio gioco che era quindi un polizzotto infiltrato appunto nel loro clan per trovare delle prove e per incastrarli tutti e questo ha fatto scatenare ancora di più l'esiderio di vendetta di Tony. Tony che voleva uccidere Damiano già parecchio tempo fa quando Damiano aveva ucciso durante una grottazione pasquale che era uno di loro, un membro del clan sabiese. Tony che però è sempre stato messo a bada da Edoardo che è riuscito comunque a difendere Damiano fino ad ora però ora dopo questa scoperta appunto che Damiano in realtà era un polizzotto infiltrato questo ha fatto scatenare ancora di più Tony che veramente è una scheggia impazzita. Tony vuole farlo fuori, vuole assolutamente uccidere Damiano, non vuole perdere altro tempo ma Eugenio, ma Edoardo scusate, ma Edoardo è riuscito a tenere a bada ancora una volta a Tony a dire che Damiano non si deve toccare e eventualmente lo potranno fare fuori più avanti quando si saranno accalmate le acque. Però niente Tony non ne vuole assolutamente sapere e così decide di agire per conto proprio anche se non ha l'ok del suo capo, quindi di Edoardo. Tony convince anche un altro scagnozzo di Edoardo a stare dalla sua parte, questo Vito, che decide appunto di assecondare Tony in quello che cercherà di fare, cioè cercherà di fare un attentato ai danni di Damiano. Però durante questo attentato Damiano ne uscirà a indenne, mentre invece Tony ferirà gravemente Rosa, che è l'ex moglie di Damiano e oltretutto la sorella di Edoardo. Quindi veramente Tony ha combinato un disastro e questo insomma, quando l'ha venuto a sapere Edoardo, veramente forse questo è stato la svolta che ha poi convinto Edoardo a prendere un'importante decisione. Comunque Tony ha deciso di agire per conto proprio perché si è reso conto che Edoardo non è come loro, cioè non è come lui e tutti gli altri uomini del clan, perché ha capito che Edoardo non è in grado di andare fin in fondo, cioè non ha il coraggio di andare fin in fondo a certe cose, in questo caso ad uccidere Damiano. Edoardo ha sempre difeso Damiano e molto probabilmente perché ci tiene ancora a questo amico, perché comunque lui lo considera ancora un amico nonostante abbiano prese strade completamente diverse. Loro erano amici fino all'infanzia, da ragazzini, poi lui, Edoardo ha preso la strada della camorra e Damiano è diventato poliziotto. Però nonostante questo, il continuo a vedere Edoardo cerca sempre difeso Damiano, nonostante tutti i dubbi anche leciti che aveva Tony, questo ci fa capire che comunque Damiano è ancora ben visto da Edoardo e che Edoardo non è comunque così cattivo come magari vuole far credere. Quindi questa cosa è percepita da Tony, che quindi si è sentito ancora di più autorizzato a fare quello che voleva e fregandosi anche delle conseguenze, perché lui non ha paura che Edoardo possa vendicarsi di lui dopo aver cercato di uccidere Damiano. E quindi lui agisce veramente come se avesse preso il posto a tutti gli effetti di Edoardo, cioè lui veramente agisce già con questa mentalità. Edoardo, quando viene a sapere di sua sorella che è gravemente ferita, sia in ospedale per avere informazioni per fare alcun medico, e qui incontra Damiano. Damiano quando vede Edoardo lo aggredisce immediatamente perché pensa che sia tutta colpa di Edoardo che sia stato lui a dare in via, sia stato lui il mandante di questo attentato. Quando in realtà non è così, infatti Edoardo nega, però Damiano non gli crede assolutamente. Damiano poi viene portato via da altri suoi colleghi e Edoardo viene arrestato. Edoardo passerà qualche giorno in carcere e mentre lui si trova dietro le sbarre, fuori i suoi ex uomini si stanno organizzando sul da farsi e Tony, che praticamente, come ho detto poco fa, ha preso il posto di Edoardo, decide di far fuori Edoardo una volta che uscirà dal carcere. E questo vorrà farlo subito nonostante il quartiere sia pieno di poliziotti. Lui decide di agire ugualmente. Nel frattempo Edoardo esce dal carcere, si reca a casa e qui si presenta Vito, che è uno dei suoi scagnozzi, che era quello che è andato insieme a Tony a fare l'attentato. Vito chiede scuse ad Edoardo, dice che non doveva farsi convincere da Tony in quell'attentato, ma purtroppo si è lasciato trascinare e quindi fa la sceneggiata del pentito, del dispiaciuto. Edoardo gli dice, bravo, sono contento, che hai deciso da che parte stare e ora dobbiamo vendicarci di Tony. A un certo punto Edoardo si gira e mentre alle spalle questo Vito sta per prendere fuori la pistola. Edoardo si accorge subito, riesce a disarmarlo e quindi capisce le vere intenzioni di questo Vito e dice adesso sta per arrivare Tony, vero? Quindi Edoardo ha già capito tutto, quello che sta succedendo e quindi si aspetta da un momento all'altro che arrivi questo Tony per completare il lavoro. Quindi Edoardo veramente è in forte pericolo e ha praticamente il clan contro. Cioè quindi tutti i suoi uomini, o mai possiamo dire ex uomini, si sono rivoltati contro di lui. C'è un'anticipazione che ci dice che Edoardo sarà in fuga appunto dal suo clan, cerca di fuggire, di nascondersi e cercherà riparo a casa di Clara. Clara che deciderà comunque di accoglierlo, di nasconderlo e quindi chissà anche se tra i due potrà di nuovo nascere un qualcosa, potrà riprendere la relazione, visto che insomma la fuga di Edoardo ci fa pensare quantomeno che Edoardo abbia deciso di cambiare vita e quindi di non avere più a che fare con la camorra e di iniziare una vita completamente nuova che è quello che l'ha chiesto sempre Clara. Quindi adesso se effettivamente le cose saranno così, Clara potrebbe decidersi di ricominciare una storia proprio con Edoardo. Io con questo video voglio chiederti che cosa ne pensi di questo cambiamento, di questa decisione di Edoardo e se secondo te riuscirà a completare questa trasformazione, cioè se alla fine riuscirà a togliersi completamente dal clan e iniziare una vita diversa, una vita nuova. Ovviamente noi parliamo di anticipazioni, però le puntate vanno sempre viste, giusto per essere sicuri che quello che abbiamo letto è corretto. Scrivi nei commenti le tue ipotesi su quello che pensi che accadrà da qui a breve per quanto riguarda il personaggio di Edoardo e se sei contento di questa svolta, di questa decisione, di questo personaggio. Scrivi tutto nei commenti, iscriviti, ti raccomando, anche al mio canale di YouTube e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!